Essere un Getty è una cosa straordinaria. Mio nonno non era soltanto l'uomo più ricco del mondo. Era l'uomo più ricco della storia del mondo. Noi assomigliamo a voi, ma non siamo come voi. E' come se fossimo di un altro pianeta. Dove la forza di gravità è talmente forte da piegare la luce. E anche le persone. Signor Getty, suo nipote. Signora Getty, abbiamo vostro figlio. Che cos'è, uno scherzo? 17 milioni di dollari per liberarlo. Io non ce li ho, quei soldi. Allora li chieda a suo suocero. Lui ha tutti i soldi del mondo. Il signor Getty è impegnato. Mi dispiace, signora Getty. Lavoro per il signor Getty. L'aiuterò a trovare suo figlio. Non sono una vera, Getty. Ne ho solo sposato uno. Mi batto contro un imperio. Dobbiamo pagare il riscatto. Faranno cose a suo nipote che nessuna somma cancellerà mai. No! Lo chiedo come madre. Liberate mio figlio. Mostriamo che siamo disposti ad andare via. Io non posso andare via. Signor Getty, se non vuole pagare 17 milioni di dollari, quanto sarebbe disposto a pagare? Niente.